L'idea originale del film è legata a due amici miei, due persone che conosco e che diciamo come me hanno sperimentato quello che è l'idea di base del film, nel senso di parlare di adolescenti, di giovani che sono sottoposti a forti pressioni da parte della società nella quale vivono, forti pressioni che li può portare ansia da prestazione o tutte queste paure a queste pressioni psicologiche causate dalla società in cui si viva che chiede molto ai giovani. Ci sono due registi in realtà che a me hanno influenzato e mi piacciono molto, in particolare Maurice Pialà e un altro registro che attualmente mi piace molto, che è Andrea Arno. Beh, è cambiato molto, diciamo, le mie preferenze sono cambiate molto nel corso degli anni, diciamo che recentemente quello che veramente mi ha colpito è un film che si, americano, si chiama American Honey. Io mi piacciono molto, oggi oggi a stare qui e che guardate il film e spero di tutto il film. E vi voglio allen Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti!